Ciao, creatura. Io sono Eccati Splendente, sempre in pigiama, e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai, E-S-M-A. Questa sera voglio fare uno story time con un po' di triggers di perline finché ti racconto finalmente dopo quando è passato dall'incidente che purtroppo ho vissuto. In auto. E vabbè, non andrò nei dettagli perché appunto, non so se posso parlare, non ti dirò ovviamente chi è stato a fare cosa, però ti racconto un po' in generale ciò che è successo, che veramente, cioè, mi è rimasto il traumetto, ecco, il trauma di questa situazione, non solo psicologico, ma anche purtroppo fisico. Allora, è successo che un giorno, in aprile, stavo uscendo dal lavoro e... Ero tranquilla, stavo guidando la mia smart, sai che ho la smart? Io ho una smart vecchissima, minuscola, sembra un giocattolo, sembrano quelle auto senza patente, ma in realtà non va così piano come volendo, ecco, va fino ai 140 e... e... e niente, però insomma, ad occhio, sembra un giocattolino e... e niente, stavo uscendo appunto dal lavoro e... 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 ero vivo e stavo andando verso casa ehm... quel giorno, quella sera, perché erano le 18 non sapevo che proprio in quell'ora lì ahm... era appena finita ehm... una partita di rugby e io dovevo passare proprio vicino allo stadio quindi... mh... non sapevo... ehm... non ero mai passata... ehm... vicino allo stadio durante... durante... durante, no... finita una partita di rugby e... ehm... ehm... soprattutto di solito le facevano durante un weekend invece... in caso eccezionale veniva a svolta quel venerdì perché c'erano le feste di Pasqua, mi pare, una cosa del genere comunque... fatto sta che... c'era un casino che non ti dico c'erano macchine parcheggiate ovunque un sacco di gente a piedi, carabinieri tutti e tutti erano in quella strada, in quel momento infatti io mi guardo intorno e dico ma che sta succedendo? però non vedevo l'ora di tornare a casa perché ero stanca e... ehm... in una strada proprio, proprio di fianco allo stadio di fronte... nella... nella... parallelamente c'è una scuola elementare lì ci sono le strisce mi trovo un gruppo bello grosso di persone che attraversano la strada sulle strisce giustamente io, Farino, stavo già andando molto piano perché lì c'è il limite dei 30 perché già ci sono le scuole e poi c'era molto traffico quindi... già a Rovigo normalmente ci sono persone a piedi in bici che ti tagliano la strada che spugano fuori dagli alberi e quindi io vado sempre molto piano perché non voglio investire nessuno giustamente, eh direi giustamente poi soprattutto vicino alle scuole anche se è un altro orario però io non so più gli orari scolastici ma comunque vado sempre piano in quelle zone e se c'era il limite dei 30 motivo c'era io, tranquillamente mi fermo alle strisce pedonali lascio passare tutte le persone perché c'erano veramente tante tante persone e le macchine erano tutte parcheggiate lungo tutta la via sia a destra che a sinistra alla mia destra avevo le scuole alla mia sinistra avevo lo stadio e anche c'erano dei carabinieri davanti quindi già io mi fermo a far passare tutti nelle strisce che a volte ci sono delle persone che si fermano sulle strisce e io mi fermo per farli passare e loro mi dicono ah no no sono qui fermo per fammi i cavoli miei ecco già così figurati se non mi fermo che c'è un gruppo bello cicciotto di persone un bel gruppo grosso di persone che devono attraversare con tanti carabinieri che ti fissano sul marciapiede accanto allora io mi fermo quello dietro di me si ferma quello dietro quello dietro dietro di me quindi siamo una due la terza macchina cosa fa cosa decide di fare questo genio della guida si schianta contro quello dietro di me e quello dietro di me mi viene addosso tant'è che era forte l'impatto che io ho dovuto frenare per impedire di investire quelli che stavano attraversando la strada dall'impatto e non so neanche come ho fatto perché sono stati dei riflessi incondizionati perché io ero tranquilla lì che aspettavo che queste persone attraversassero non avevo visto dietro cioè io ho visto che quello dietro si è fermato basta non sono stata a pensare che qualcuno potesse arrivare a tutta velocità e schiantarsi contro quello dietro di me io non stavo io ho visto solo che quello dietro si è fermato e stavo guardando avanti aspettando che tutti passassero all'improvviso sento un botto e vedo la mia macchina che va avanti e mi è venuto tutto l'istinto di frenare per perché se no investivo quelli davanti cioè non so come spiegartelo perché nemmeno io lo so in realtà perché è stato tutto una cosa che è avvenuta velocissimo super così tutto è stato oh mio dio e lì per lì ho detto oddio ma che cazzo è successo cioè non capivo la situazione perché due parti che non mi erano mai successo ma poi ero tipo sotto shock perché ho preso una botta cioè ho preso paura ecco e non sapevo cosa dovevo fare perché ero tipo sotto shock e mi sono ritrovata e poi tra l'altro la smart ha il motore dietro non ce l'abbiamo davanti noi ce l'abbiamo dietro e vabbè e quindi neanche smonto dall'auto i carabinieri che erano lì e hanno visto tutto mi fanno non non si preoccupi ci facciamo noi insomma parlano con era un vecchio e parlano col vecchio che ha tamponato una macchina dietro di me e di conseguenza quella dietro di me ha tamponato me parlano con lui poi vengono da me e fa signorina cerchi un parcheggio perché eh il responsabile dell'incidente si prende tutta la colpa grazie è colpa sua cioè nel senso che poteva scappare però cioè tutti hanno visto anche i carabinieri quindi non poteva fingere che non fosse successo e fuggire e vi arrangiate voi vabbè grazie ero tipo allora sotto shock non sapevo che cacchio fare e era pieno di macchine non sapevo dove parcheggiare perché non c'era posto già normalmente non c'è posto in più in più non non sapevo cioè ero mi tremavo tutto non stavo capendo più niente allora prima cosa che ho fatto ho chiamato mio papà e gli ho detto eh l'ho avvisato eh perché appunto stavo andando a casa a fargli da mangiare ma eh non so non sapevo quanto ci avrei messo in tutta quella situazione allora l'ho verdito poi sono andata oggi sulla macchina e sono andata avanti in una stradina cercando parcheggio e mi sono ricordata che lì c'era un un insieme di case e lì c'era parcheggio e infatti abbiamo trovato parcheggio lì e scendo e guardo un po' la mia macchina distrutta che tra l'altro l'avevo comprata da poco l'avevo presa in febbraio e all'inizio non avevo tutti i soldi per pagarla perché me la sono pagata con il lavoro con gli stipendi però il lavoro l'avevo iniziato da gennaio e non avevo tutti ancora i soldi quindi me li aveva anticipati mio padre e dopo io li avevo appena finiti di restituire tutti e l'avevo appena finita di pagare e questo mi viene addosso e me la distrugge ero tipo no ti prego ti prego non sta succedendo sta cosa e invece purtroppo e poi un mal di schiena che non ti dico ma al momento ero talmente sotto shock e con l'adrenalina a mille che ero tipo fuori dal mio corpo se e questo vecchio che invece di fare i 30 faceva gli 80 in una strada che c'era al limite di 30 e stava cercando una cosa in macchina e non si è accorto cioè andava velocità elevata in quella strada e stava pure distratto e non si è accorto che c'era tutta quella gente che stava attraverso la strada e lui è andato dritto c'è un genio vabbè roba da ritiro della patente e questo genio si permette di venire lì a dirgli e perché parcheggiato così lontano scusa intanto non c'era parcheggio da nessuna altra parte in più è già tanto che ho trovato quel parcheggio lì hai fatto l'incidente e mi vieni anche a fare osservazioni perché hai parcheggiato così lontano perché ho trovato un parcheggio interno dove ci sono appartamenti che so che lì si può parcheggiare è un parcheggio gratuito anche perché volendo non c'erano altri parcheggi perché il carabiniere mi ha fatto detto trova tre parcheggi vicini e volendo ce n'era uno vicino ma non un posto per tre quindi mi è venuto nervoso e io non mi ricordo ma so che gli ho risposto tipo dopo che mi sei venuto addosso e anche le preteste sul parcheggio ci sono cose del genere gli ho detto e lui ha detto ah vabbè vabbè cioè cioè sei il completo 100% torto non c'erano parcheggi e il figa mi ha detto così e vuoi anche rompermi le palle perché non ti piace dove ho parcheggiato cioè scusa no no tutto apposto cioè veramente alcuni vecchi andrebbero non so messi in una casa di riposo e basta perché fate solo dei danni anche già però vabbè non dico non voglio essere cattiva però in queste situazioni comunque vabbè fa la constatazione amichevole le firma tutte insomma sì il tamponamento i dati poi tra l'altro mi fa cognome io targa e lui cognome targa e lui no ma il cognome il mio cognome è targa devo farti vedere la carta d'identità cioè lui eravamo tutti un po' sotto shock però lui pensava che continuavo a dirgli che di me era la mia targa ma in realtà il mio cognome è targa cioè è quello non posso dirti rossi cioè quello è il mio cognome e quindi già non sto più parlando lentamente mi agito troppo perché è stato un momento veramente un po' assurdo allora poi niente succede questo e succede questo e si fa questa constatazione amichevole questo quell'altro io non sapevo proprio che cosa dovevo fare abbiamo compilato questi fogli firmato bla 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 e poi ci avevo messo un bel po' poi torno a casa ecco la macchina che fa fumo nero non so mica come ho fatto a tornare a casa onestamente non ne ho idea riuscita a tornare a casa c'era una macchina che poverina non ce la faceva ma io non avevo nessuno che mi era venuto a prendere nessuno è venuto aiutarmi e tutto quindi o così o così e quindi con questa macchina che faceva un fumo nero fotonico generalmente che arrancava nelle salite sono riuscita a tornare quindi io dico la mia macchina sembra un gioco sembra un giocatolino piccolina incidente però cazzarola c'è le palle è riuscita a portarmi a casa dopo l'incidente e non sapevo cosa fare e sono tornata a casa mio papà era tranquillo sul divano che guardava la tv sapendo cosa mi era successo ma anche quasi lamentandosi che non era pronta la cena scusa se ho appena fatto un incidente in macchina scusa e quindi niente sono attaccato ho fatto da mangiare ancora sotto shock e ero talmente sottoshock ero talmente sottoshock che veramente una situazione assurda sono andata a letto cioè mi sono lavata e sono andata a letto il mattino dopo dove andare al lavoro e ancora sottoshock veramente è stata veramente una situazione assurda sento che ho mal di schiena però non lo so perchè mio papà mi fa non andare in pronto soccorso dopo perchè volevo andarci cioè io sono tornata a casa ma in realtà volevo andarci la sera però mio papà mi aveva convinto di non andare perchè per lui era una rottura di valle perchè avrebbe dovuto accompagnarmi lui e lui non voleva accompagnarmi e lui voleva stare a casa sul divano con la tv e quindi io il giorno dopo ho preso sulla mia macchina quello che faceva a fumo nero e sono andata a lavorare perchè ero totalmente sotto shock sono andata a lavorare era sabato mattina e racconto ciò che è successo ai miei colleghi e tutti mi hanno detto Marta devi assolutamente andare in pronto soccorso e hai tipo tot non so ventiquattro ore di tempo o cosa del genere non mi ricordo adesso quant'era sei quarantotto ventuno comunque era infortunio sul lavoro perchè è successo e all'interno del se tu esci dal lavoro hai ancora un quarto d'ora di tempo così succede entro quel quarto d'ora di tempo lì è ancora infortunio sul lavoro è una cosa molto strana comunque e io ero appena uscita quindi era successo subito e e vabbè e sono andata per legge ma volevo fare le cose come bisognava farle e io non sapendo come comportarsi perchè nessuno mi ha detto niente era la prima volta che mi succedeva e lasciamo perdere a casa e allora tutti mi dicono Marta finito di lavorare vai pronto soccorso mi raccomando allora ho fatto il mio turno di lavoro con il mio mal di schiena fotonico e sono andata perchè il mio lavoro era molto vicino al pronto soccorso in ospedale vicinissimo all'ospedale mi è bastato fare uscire dalla rotatoria a fare un'altra rotatoria ero in ospedale sono andata in pronto soccorso e verso le due del pomeriggio perchè finivo finivo quell'ora lì di lavorare facevo dalle otto ore quattordi e e niente sono andata lì ho peccato penso uno dei dottori più antipatici che avessero lì nel pronto soccorso mi è stato un po' di merda devo dire ecco tant'è che pure l'infermiera si è scusata e vabbè i dettagli e niente alla fine il solito colpo alla schiena mi ha chiamato una bella botta dietro quello del dottore il medico del pronto soccorso mi ha fatto fare delle visite e dopo mi ha detto prendi degli antidolorifici e io le faccio e quali? e lui fa quelli che hai a casa ma che che risposta è quelli che hai a casa? e se io a casa non ne ho? cioè capito proprio delle visite fatte così cioè fatte con i piedi ecco e quindi poi me ne torno a casa con la mia macchina ancora che fa fumo nero andata dall'assicurazione a parlare e mi hanno detto guarda che tu hai il 100% della ragione ti sei fatta pure male ti conviene andare da un'infortunistica e allora chiamo questo studio infortunistico vado lì a parlare mi spiegano un po' la faccenda e quindi sono dovuta andare a fare delle terapie per la schiena che poi non mi sono servita anche perché alla fine nonostante io avessi 100% della ragione nonostante io mi fossi fatta male le cure poi me le dovevo pagare io e costavano un casino in più siccome la mia auto è vecchia mi hanno fatto 2.000 euro di danni perché mi hanno distrutto il motore e nell'assicurazione mi hanno dato 1.000 euro e allora io ho detto ma scusa scusi ma io ho il 100% della ragione a meno che mi ripagassero tutti i danni perché cioè io stavo guidando tranquillamente io stavo rispettando la legge questo mi viene addosso e ci devo rimettere io oltre che danni della macchina anche danni fisici io non voglio tutti i soldi per le visite mi arrangerò per quello però almeno ripagarmi la macchina avevo appena finito di pagarla e mi doveva ricominciare a pagarla per aggiustarla perché un vecchio non rispetta invece di stare a casa devi andare in giro a far danni capito e e quindi tramite infortunistica sono stati molto bravi sono riusciti almeno a farmi ripagare le spese che ho speso quindi è un'infortunistica di Rovigo anzi no infortunistica security security scritto s-c-u-r-i-t-y se no di Rovigo loro sono stati gli unici che mi hanno aiutato perché quelli dell'assicurazione ah si si 600% della ragione arrangiami questi qua invece mi hanno spiegato cioè c'è il marito e la moglie che lavorano insieme e mi hanno spiegato bene cosa sarebbe successo cosa bisognava fare andare a parlare con il medico insomma tutte quelle cose lì mi hanno spiegato bene mi hanno aiutato sono stati veramente bravissimi e poi io non li ho pagati sono stati pagati tramite come servizio perché comunque avevo 100% di ragioni quindi una parte ma non so spiegartelo comunque eh giustamente eh non è cioè io l'ho dovuto andare da loro ma no per colpa mia quindi già sono usciti tramite credo l'assicurazione comunque veramente in Italia tutte le leggi sono per quello dico che non mi fido tanto delle leggi italiane perché cioè sono al 100% della ragione e devo rimetterci capito funziona così e questo qua ha ancora la patente si fa i cavoli suoi proprio proprio non credo che ce l'abbiano tolta non so più che fine abbia fatto né lui né quello che era dietro di me che ho visto solo aveva si era dovuto mettere il collare perché lui ha preso l'impatto più grosso perché è stato tra virgolette schiacciato tra me che però una smart quindi non l'ho schiacciato chissà cosa probabilmente se avesse avuto un muro sarebbe stato peggio ma ha preso lui tutto l'impatto perché ha tutito perché se arrivava da me probabilmente mi ammazzava e tra l'altro mi hanno detto per fortuna che avevo avuto anche il riflesso di frenare perché se lui se veniva fuori tutta questa catena di incidenti però tu investivi qualcuno gli facevi male poi era una colpa tua ecco mancava solo quello cioè capite uno viene addosso e colpa tua se fai addosso ti rimbalza un altro e invece quello dietro di me non aveva colpa perché si è preso 100% la colpa giustamente chi aveva la colpa però magari io avrei fatto dei danni avrei fatto del male a qualcuno cioè ipoteticamente parlando cosa che per fortuna non è successa comunque veramente adesso ogni volta che guido ho l'ansia guardo sempre dietro lo specchietto ogni volta che freno e ogni volta che faccio passare qualcuno subito riparto perché cioè stanno passando sulle strisce io vado avanti pianino perché ho paura appunto di restare ferma e di avere qualcuno che mi viene addosso dietro quindi vedo tutto questo con molta gioia e serenità come puoi vedere guido con la paura che mi vengano addosso da un momento all'altro e perché appunto al di là del danno c'è anche tutto ho dovuto passare mesi a fare questo fare quell'altro andare di qua andare di là dopo tutto quel tempo lì tutte quelle quella rottura di moroni nessuno me l'ha ripagata cioè non me l'ha fatta il vecchio che mi è venuto addosso ho dovuto arrangiarmi e farmi tutto da sola quindi è anche una rottura di palle ulteriore dover fare tutto sto giro di robe e vai qua e vai là fai questo fai l'altro le visite e questo e adesso per colpa sua ogni tot di tempo mi si gioca mi si blocca la schiena tipo adesso io sono è una settimana anche mal di schiena io non so cosa fare io nel periodo dopo l'incidente ho passato settimane a piangere a letto le notte per il mal di schiena e nessuna mamma mi ha aiutato a fare niente e anche se mi imbottisco di pastiglia non mi passa mi fa proprio tanto male quindi è stata veramente una un'esperienza che avrei preferito evitare mi ha insegnato tante cose ma mi ha lasciato veramente tanto di negativo e il mal di schiena è pesante perchè comunque non puoi fare c'è io mi sono sforzata ad andare a pilates a genostica posturale eccetera eccetera ma fa tanto male cioè veramente anche sto seduti dopo un tot non ce la fai più e quindi niente le dovine che sono viva e che la mia macchina adesso è sistemata ma la mia schiena non è sistemata e e mi è rimasto il trauma che ogni volta che mi ci che freno ho paura che qualcuno mi venga addosso tutto qua tutto qua che piccolizze comunque questo è stato la mia il mio story time del mio incidente non c'è stato proprio un leso fine in parte diciamo ecco sono riuscita perlomeno a ripagarmi ciò che avevo speso per rimetterla normale a posto spero che questo video ti sia piaciuto se vuoi raccontarmi anche tu delle una situazione analoga che hai vissuto scrivimelo oppure nei commenti che io come sai leggo tutti i commenti anche quelli di offese e ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura ciao 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 ciao